musica 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 akuna madata ragazzi ben ritrovati dal vostro cicciochiaver89 e dal vostro jogger official cube, siamo qui in questo gioco a mount sleep, giusto? esatto anche io ho il mio sacchiotto personale, tra l'altro è vero, questo è mio ce l'ho da anni ce l'ho da anni, dato che comunque sono vent'anni, si, sono vent'anni che ce l'ho e quindi ci porterà fuori e quindi visto che comunque si adatta delle cazzini e bambolotti no, lasciami sta pure, si chiama orso bruno si chiama, si chiama orso bruno quindi facciamo play alpha, giusto? questa è l'alpha, chi se ne frega, esatto un'alpha, esatto si, così, è la prima volta che ci giochiamo non ci abbiamo mai giocato, io sinceramente non ho mai visto video, non è che io, quindi facciamo click to continue, stanno facendo pipì stiamo facendo la pipì buonanotte precious la fa fatte un po' sprecious li traduco il tanto regale si, certo presentiamo presenta allora io e noi presentiamo ah, è ignorante among the slits me so cagata nelle mutande alpha senti la cacca non si fa sta zitto e sta a fare nina nana ragazzino bruno tu mi raccomando si ma a me sta a guarda brutto questo cazzo d'orsaggiotto ah la la ragazzi poi come sapete io io sono un cacone infatti sto giocando io tra l'altro poi a chi può interessare ci stanno i link di entrambi i canali sotto esatto a chi può interessare me ne da mille euro diciamo che magari il gioco ve lo dico non andrà fluidissimo perchè stiamo sul portatile di mio fratello perchè su il mio pc non funziona i jack no perchè questo gioco ha molti problemi faremo ha tantissimi problemi ha tantissimi problemi quindi nel suo si mi dà benissimo si ma ci stanno portando via un sacchiotto un tanto no bruno tuo fratello se ne va guarda bruno saluta no lascia sta bruno che sta spaventato guarda bruno ok io penso che succederà una cosa del genere io già me l'ho buttato dalla finestra no io morivo proprio ecco poi succederà così proprio che podica affatto ma proprio ci portano via cala caruzella senti ciao bello cala caruzella cala cosa cala caruzella no ci ho scaraventato per terra ok l'abbiamo usata così e siamo diventati e così si diventa oh e siamo ragazzini e mamma 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 scrivi il joker aspecie provo ma non credo che funzioni lo sai iiii che è ii iiii vabbè vabbè lascia perdiamo qua lo scriviti di jones vabbè posso arsare? si funziona così apri buon scena mazzo con poi andrei giocato il nostro ragazzino ma stiamo per terra c'è pure due ragazzi questa c'è la russa in bruno mamma ma che dobbiamo trovare? mamma sicuramente dovrebbe essere ripensato l'urso bruno si quello poco mi assicuro posso giocare porca palluccio non credo però se stiamo arsati va più lento io mi rimetto a sette corsa guarda è vero eh andamo 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 che cacchio è? il cagnolino che è? a me sembra l'elefante poi c'è stato attacca al collo è un elefantino che sto fa? se me lo porto dietro? eh portalo con noi andamo andamo tipo la beauty pie che elephant elephant c'è scritto fragile qualsiasi cosa te la prendi con lui eh che possibilità no no prendi te la con lui e mo? eeeh ha sentito? si orcuno ha detto rotto allora rimani qua eh per me ti prendo lo sgabello eh chiusa chiave dici che addirittura devo prendere lo sgabello esatto lo fa prendere vedi la mano ho un regazzino che sposto lo sgabello cazzo aspetta mi asci aspetta mi asci vedi vedi vabbè ma questo è un è il figlio di di Hulk del mister satan porco due sali cazzo le mani diventano un cello la vedi? la apri si ma piano eeeh adesso è così ma tipo ta 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 ma nooo senti la tosse no c'è qualcuno che c'ha la tosse aspetta io riprendo il sacchiatto no questo è l'elefante ma si è un sacchiatto elefantoso ecco ma chi è che c'ha la tosse? non lo so rondo che roba strana mammaa che è una lavatrice mammaa che cosa c'è? ma dov'è mia madre? non lo so tu entra qui dentro ma no qua dopo entra qua qua si mammaa papà non c'è nessuno ma c'è una lavatrice aaaah si ma vuoi che fanno sta cacciare si ma che casino te lo spegni scusa eh come lo chiamiamo sto il sacchiotto? spegni posta la lavatrice e merda aspetta però si può aprire Ergmi come Ergmi come Ergmi che c'è una lavatrice? ma come so? non apri Narnia ci vado dentro Narnia no ci sta un cacchio tipo oh che è? no no fa una cosa cosa? spegnare la lavatrice ma non si spegne però se te fabbricchi vuol dire che c'è qualcosa è bloccata stacca la spina fa qualcosa vabbè non lo so aspetta metteci l'elefante dentro si aspetta sciacquo c'è questo ma questo è sporco che mamma ti ha fatto i giochi sporchi con l'elefante c'è la roboccia ma c'è sta sto pochione quanto sei grosso prendi questo bruno aspetta basta ma lo sangro fa porco e due l'orsetto si perchè se vede la faccia madonna mia la son messo a paura ma io mi prendo un ticciocatto questi casi io me ne è arrivato un cameretto guarda alcuna delle gare perchè sta posto c'era i 5.1 un po' la gricchia eh io me ne è arrivato un camera vedi sott'aspetta c'è mo ma guarda se nessun assacchiuto come noi ma che c'è un leone in giocata ma che cazzo ha reso una tigre si ma ne aveva musica e un mio figlio ben cazzo eh neanch'io eh che senti silenzio le tomba ah il cazzo lo dicevo non sono paniere il cazzo lo sento senti il silenzio palla e quando ci sono le palle dentro una casa palla mi piace ben cazzo a me non c'è la palla andiamo sotto lanciala giù no no perchè si può andare giù no non si può si si può devi aprire si vai si ah siamo entri indietro ma perchè non scendiamo 18 ma lì sul fondo non c'è niente no mmm chi se ne frega come andrà sotto ah andiamo subito non c'è un po' tutto visto? si oh ma è paranormal activity vaga che c'è qua dentro? una bombola da cazzo oddio cosa si è distrutta ma scusate è una cosa ma la madre c'è un estintore attenzione ma la madre e l'altro non c'è più nessuno starà a dormire la madre sto cazzo senti che è il macello ronda passa lo tartaro gattona prova c'è ragione lo sai? c'hai ragione quindi potremmo fare la facciata letto ammassa quanto sto forte facciata letto ma che è tutta sta ragazza? non c'è da di costa che c'ho paura carameazzo vabbè ma che saremmai la casa della casa è tua effettivamente la droga è passata non fa un culo pronto se ci stanno di te le dà la piste guarda che impianto l'orbi su round c'ha questo? ci stanno qua che cazzo è? lo so cagato sotto raga devo stare un orsetto bruno ma ce l'ha in tasca un orsetto bruno? ma si mo mo l'ho messo in tasca solo se l'ha messo al culo vabbè c'è una banana baneo? c'è una banana che c'è? il mondo è arrivato qua vado verso la luce dio! pronto! oh! oh! frost! bro frost! bro frost! io una banana non la posso prendere? no! si ma lo posso prendere! prendela prendela poi prende tutto via 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 e ti unoro sta banana in culo prendi quello è un orsetto che cazzo porco me so cagato un mal ma che è? non lo so perché fa sssssss rondo? perché ha fatto sssss? perché c'ha l'occhietto bianchi sto fresco? eh davvero? perché ha stelle giocatte ha comprato ah mi serve mi serve qualcosa una sceglia è stata carica a sto ragazzino Sì, tanto c'è un comandante che vada più in vostra ragazzina. Ah, adesso è il figlio di Chuck Norris! Perca tu! Mamma, papà, non vi preoccupate proprio io! Non vi preoccupate! Ad usare la città, non ce vado io! Che che avete ordinato la pizza? Oh, le scarpette di papà! Che non era morti papino? 32? E' sta puzza di ciabatta, lì? Ma che sono questi rumori? Chi è sta a fare la cacca? Questa è squad house, volevo! Questi hanno solo estinto dentro sta cazzo di casa, ci hanno pure una che va a fuoco! Guarda! Un elicottero che è? No, non si può aprire! Dice? Eh, no! Ma perché ci sono? Quanto è grossa sta casa? No, ma poi perché ci sono tutti sti cosi? Ecco me, no? Vieni, vieni! Devo tirare in fascia male che bada! No, no! Mi serviva una banana a sto momento! Pia la scopa! Gli ha la mo' fascia! Se va piada la scopa? Non lo so! Nooo! Se va piada col cazzo! Ma sto bambino non c'ha mai paura! Mamma! Mamma! E' bello qui! Pina! Oh! Pina! Non si vede niente! Perché non ce l'ho qua qui! Che c'è lì? Il mondo è in armia! Oh, che è? Perché ti cascano piglie qua, porco? Due! Ma perché tu avevi capito che era una piglia? Sì, sicuro sarà una piglia o qualcosa? Dici? Pronto? Però succede un cazzo dentro sta casa! Pronto! Ma per me è qualcosa di strano! Si è muo' sotto a fascia! Ah, no! Aspetta, perché questo ti ricordo che... Questo è il McGyver! Guarda, eh! Olè! Questo è il McGyver! Poi? Faccio così... E cascate sotto! No, no! Te lo questo! Sto ricassino! Sto ricassino però c'è un Shaq Novis! Chi è? Shaq Novis! Shaq Novis! Sì, sì! M**chiavolo! Apri col pisello questi... Oh! Questo è spuridato sto ragazzino! Altro che... Ma tu che panzetta che c'è? Chi è? Eh! Sì! Oh! Che me sei chiodo in faccia! Sto chiodo tutto che vale! Chi è? Apri? Apri col pisce vai! Olè! Faccio il cazzo sto ragazzino! Questo ragazzino col pensiero apri le cose! Chi è? Ma tu fai cosa! Ma tu fai cosa! Ma tu fai cosa! Mamma! Mamma cazzo! Con questo letto c'è... Shhh! Mamma! 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 Che c'è? Mamma! 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 Nois! Pronto! Mamma ti alzi brutta vacca! Che c'è? Che c'è sta? Nei mani per te da? No! Sono cazzini! Sono cazzini! Mamma! Mamma! Perché dormi? Musa marata! Andando! Io mi preoccuperei un attimo! Sì davvero! Oddio! Lo scoprì! Non lo fa! Lo scopro! Vai! Non si scopre! Ah no! Stai tipo svegliato! Mamma! Puttana! Tagli il cazzo al test! Sai se si sveglia! Oh oh! 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 Ma c'è un cazzo! Oh! Eddio! Si è acceso pure il vecchio! Ma c'è il cazzo! C'è i brividi! Mamma! Mamma faccia del merda! Eh ma ha detto lui mamma! Ma lo fa! No! Ha detto mamma! Cos'è l'ho fatto? Eh! Magari giustamente andiamo dove si apre la porta! Mi sembra tutto! Pronto! Stanno elicolti dentro sta casa! Vabbè! Un altro pupazzo qua! Ah no! Ma siamo ritornati! Come inizio è possibile semmo ritornati qua? Per me non c'è l'ottistica scatolica! No questa è un'altra mia! No no! Perchè c'è una scarpa che vola? Perchè c'è una scarpa che vola? Ok! Qui mi impagano tanto! Oh! Chi è? Orologio! Per cucurio Pasonami! zembrerichE'5 Regazzi cori!! Ha chius Dalee! Noi lo so sella uno c'era uno con l'ombrello? E' una ctailata! Chiusi sono il cazzito due! Adpro so che venne sotto! Lo so io che portaglie! Che pihierà un pedalino? Read up mio qua! Le even su io?! La macchina è m'èdata! Che sta avando, produces Link弟! Vieni! Ehi! Ombra lui! Ehi! C'è coraggio! Si ha messo il tuo settimo nese con queste scarpe! Vieni, vieni! Te la scii tua, te la metto in bocca a sta cosa, eh! Ma riesci, no? Ammerdoso, tu stai! Cosa di merda? Eh? Do stai? Faccia la culo! Do stai? C'ha paura? Schifo, eh? Ah! Mamposo, eh! Cosa? Stoppa sto cazzo, te cucullo! Eh, non se stoppa, sto strut... Eh, ti dico... La mia mano riprende... Ah, è bello, ragazzino! Sì, ma sta cazzo! C'è l'acqua anche lui, qui sopra! Peccato che l'acqua così! Sto cazzo del gioco! E' solo l'alfa, regà, eh! Oh no, vieni qua! Hai visto che c'è? Senti, mi? Sì, sì, lo sento! Eh, è un'armia da qui, ragazzi! Portare Gesù! Aspetta, mi porto le ciabatte di mia madre, che qua? Non sono solo io! No, no, aspetta, aspetta! Mi riprende la ciabatta di mio fratello, la scarpa di mio fratello! Quanto cazzo là, cazzo gioco! Questa cazzina è po' patata musa, questa lo cambina! Sì! Ce l'avrà fanno io, che non è merda! Mamma! Ti preoccupa, perché c'è una ciabatta! Nel mondo fantastico siamo entrati! Ti preoccupa! Ma che cazzo è? Ritorno al futuro questo, tutte le parti di te! Che cazzo è? Un cuore? Un ciondolo? Una granata, che è? Una brugna! Ma ragazzo! Ma questo non è il forno, quello mamma ha persa aereo, che quando andava sotto un cantina c'era quello che faceva... Non tu ricordi? Sto cazzo è sposta! Sto cazzo è sposta! Le mattonelle sposta! Tiri un front, se stai vedendo c'è qualcuno! E da qua viene, senti! Eh sì, sì! Arrivo! Io invece butterei, ma neanche per... Weee! Ma tu cazzo siamo andati! Ma che è questo ragazzino? Ma che cazzo sta a fare tu? Ma che cazzo sta a dormire? Guarda come cammina col pannone o meno del merda! Ma che è? Il mondo dei patti, dove stiamo qua? Ma che è? Sono in Anneli, sta a fare questa scena? A casa del Hobbit, che è? Ma c'è Fasimo, che tu la c'è un'artalina che... In questa scena ragazzino, sull'artalina sei pizza in faccia e pia! Gli ha togliato da dentro al gioco qua! Qua, ora c'è quello di Gandalf! L'Hobbit! Dov'è? Pronto! Mi sei dis... Mi sembra che devo fare un cazzo, se me... Non si apre? Eh no! Clicca sul blog, indica... Vedi, Dio, qualcosa... Pensa c'è te! C'è qualcosa più che ci stai messo in ragazza insieme, cazzino? Mi hai messo un sacchiotto... Sto cazzo, ora il sacchiotto ci ha aperto la porta! Oh! Sta in piedi! Guardaci tua! Oh! Ci sei! Bruno! Cosa vuoi? Bruno! Guardaci sua! Guarda! Guarda! Nooo! E' venito! Nooo! Porca roia! Voglio il gioco completo adesso! Now! Nooo! Ma è fantastico! Ma è fantastico! Guarda! Ragà! Ragà! Penso che comunque questo video durerà relativamente... No! Lascia messa a Bruno! Penso che questo video durerà relativamente poco! Ah! Ve lo avevamo giusto a far vedere! Eh! Che cosa succede? Sto cazzo! Ehi! Guarda! Guarda! Quello con un brello, ho visto? Arrivato! Non dè niente, ci stanno problemi! Ah! Ragazzi! Se il video vi è piaciuto! Che più che pauroso! Diciamo che è stato comico come video! Eh! Buongiorno in su! Commentate! Condividete! Al prossimo appuntamento! Ciao! Ciao! Ciao!